Scuola compitino, la maestra dà un tema, comporre una frase con la parola probabilmente. Perfetto, il giorno dopo, interrogazione. Allora Giovanni, tu che cosa hai fatto? Giovanni si alza. Signora maestra, ecco qua. Questa mattina mi sono alzato, mi sono affacciato alla finestra e ho visto che c'era il sole. Probabilmente è una bella giornata. Bravo, 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 bravo Giovanni. E tu invece, Luca, fammi vedere, a Luca si alza. Ecco, signora maestra. Questa mattina mi sono svegliato, mi sono affacciato alla finestra e ho visto delle nuvole. Probabilmente pioverà. Bravo, bravo, bravo. E tu Pierino, scolti signora maestra. Questa mattina mi sono alzato, mi sono affacciato alla finestra e ho visto mia nonna con il time sotto il braccio. Siccome mia nonna non sa parlare inglese, probabilmente stava andando a cagare. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Grazie.